Un occhio al mercato ed un altro al campo. Riparte la corsa salvezza della Virtus Cassino che proprio poche ore fa ha annunciato l'ingaggio di Angelo Guaccio e Sava Razic. Il primo classe 1998 ha iniziato la stagione a Pavia in Serie B, il secondo Montenegrino classe 2000 che in Italia già ha indossato le maglie del Cilento Basket Agropoli e del Cuore Basket Napoli arriva da Bisceglie. Guaccio e Razic saranno subito a disposizione di coach vettese per la gara di domenica contro la Benfap Capodorlando si gioca il terzo turno del girone di ritorno del campionato nazionale di Serie A2 Girone Ovest. Il nostro obiettivo rimane quello di sbloccarci anche fuori dalle muramiche del Palasport di Frosinone, cosa che in questa stagione ancora non siamo riusciti a fare, ha dichiarato il direttore sportivo Leonardo Manzari. Abbiamo ingaggiato due ottimi giocatori che avranno l'opportunità di dimostrare il loro valore. Domenica ci aspetta un test importantissimo, dobbiamo dimostrare i progressi compiuti fino ad oggi e di incominciare a raccogliere i frutti del nostro lavoro. Non dimentichiamo però la forza dei nostri avversari, hanno la coppia statunitense più forte del campionato e giocheranno con la voglia di vendicare la sconfitta esterna di Treviglio. Noi faremo la nostra partita con grinte e cuore, ci giocheremo le nostre chance. Abbiamo bisogno di punti per migliorare la nostra classifica, ha conclusi invece coach Luca Vettese. Non ci possiamo permettere di toppare altre gare come abbiamo già fatto domenica scorsa a Casale Monferrato.